My Clarinet, Il Cralinetto, Stay Here With Me, Resta Con Me, The Mattress, Il Materasso, How Wonderful To Know, Anime Core, canzoni del repertorio tradizionale napoletano e classici immortali della canzone italiana, tradotti in americano in un album diario di vita per Renzo Arbore, dal titolo My American Way. Un disco in cui l'artista foggiano mette insieme i brani che sente da sempre più suoi, per proporli Oltrioceano, dove la musica italiana è poco conosciuta e apprezzata. Sono le canzoni che io ritengo sempre verdi, quelle che rimangono come melodie meravigliose italiane, che hanno un odore anche americano. La musica italiana cantata in italiano ha avuto delle difficoltà terribili nel corso dei suoi anni. Noi abbiamo artisti straordinari, da Lucio Battisti, che tentò di esportare la sua musica in America, a tutti, Gianni Morandi, Gaber, De Andrè, eccetera, e Lucio Dalla, che non sono arrivati al mercato straniero perché sono handicappati dalla lingua. Un'intuizione nata da colui che di Dene partorisce davvero una dopo l'altra, Oscar Farinetti, il creatore di Italy, che ha pensato bene di affiancare questo progetto, pensato per Arbore, a quello pensato per lo scrittore Alessandro Baricco, facendo tradurre il suo libro i barbari in inglese, il tutto presentato per la prima volta nel corso di una grande serata evento nella sede di Italy a New York, un'iniziativa che unisce cibo, musica e letteratura sotto un'unica filosofia, esportare il meglio della cultura italiana all'estero.